Nella commissione consigliare non è passato ma in consiglio comunale il piano strutturale di Vibo Valencia arriverà ugualmente il prossimo 24 luglio nonostante Forza Italia abbia messo le mani avanti e le opposizioni siano da tempo sull'Aventino. Quella del PD ad esempio è una bocciatura su tutta la linea. In un documento il partito di Renzi mette a nudo le carenze di un piano strutturale che guarda al governo antistorico dell'espansione piuttosto che è quello della riqualificazione e della rigenerazione urbana. Aspetti fondamentali del territorio non sarebbero stati tenuti nella debita considerazione a cominciare dalla centralità strategica del comune nel sistema intermodale imperniato da una parte intorno all'aeroporto di La Mezzia Terme e dall'altra al porto di Gioia Tauro proseguendo con la relazione inesistente tra la città e la realtà complessa di Vibo Marina con il suo porto passando per la messa in sicurezza, per le conurbazioni, per le tematiche dei quartieri dormitorio piuttosto che guardare al domani si fotografa l'esistente hanno detto i democrat amplificandone le criticità. Peraltro Vibo Valencia non assumerebbe in virtù del piano strutturale un ruolo decisivo e verrebbe sottovalutato il fatto che la città divenga cardine in una fascia di territorio che va dalla piena di sante eufemia a quella di Gioia Tauro passando per la fascia costiera vibonese all'interno della quale il capoluogo sarebbe perno rispetto ai potenziali collegamenti con il poro e le serre. Tante lacune dunque per un'idea di città nella quale Stefano Soriano e soci non si ritrovano affatto.